Cioè, più il livello qualitativo è basso, più dobbiamo entrare a cercare di dare questa mano. Con questo player ci siamo scornati talmente tante volte, ma talmente tante, che io con lui ho 6422 mani. Prendo una linea del tutto esploitativa e non... Mi piace. Mi piace. Trovo veramente... Per esempio, se io faccio un paragone di 100 avversari, e replicare con la tua linea del Withered ci sta proponendo su 100 probabilmente due. Uno. Quindi dobbiamo essere anche in grado di saper distaccarci all'ottimale e dire, ok, Andrea, io ho fatto questa linea per questo motivo. Ricordo anche questa e purtroppo è stato un grosso cooler per il mio amico. Quindi avrà tipo, da 8 T a picche. 8 T a picche, ok, wow. Da oggi un po' meno dice, ok. Grazie.